Alan Friedman ha appena pubblicato un libro, la biografia autorizzata, l'unica autorizzata di Berlusconi. Come nasce questo libro? Il libro nasce nel marzo 2014 quando sono andato un giorno al Palazzo Graziole e dopo due ore di lunghe conversazioni in convincimento Berlusconi ha accettato di parlare di tutto con la mia condizione che avrei avuto controllo completo sul progetto e la parola finale io. Lei è stato anche un feroce critico di Berlusconi negli anni passati. Come mai Berlusconi ha deciso di affidare proprio a lei la stesura di questo libro, della sua biografia, preferendola anche a Bruno Vespa? Credo che Berlusconi ha rifiutato di raccontare la sua vita a tanti nel passato perché è difficile per un italiano, perché gli italiani tendono a odiare o amare Berlusconi. Parliamo di giustizia. Berlusconi pervicacemente va dicendo che è stata la vittima di una magistratura di sinistra. Lei è d'accordo? Se la domanda è, se ritengo che tutti i 65 processi che Berlusconi ha subito erano, come dice lui, complotti dalla magistratura della sinistra, dal corrente magistratura democratica, non sono convinto per niente. Se mi chiedi se è possibile che un terzo o la metà erano politicamente ispirati e gli altri erano veri, direi che sono più convinto di questo. Lei è un esperto di economia. Mi permette una domanda sullo scandalo delle banche. In provincia di Treviso due banche fortemente radicate sul territorio, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, hanno lasciato moltissimi azionisti con un pugno di carta straccia. Cose che succedono? Qualcuno non ha vigilato? Cosa è successo? Io non sono esperto, so che Gianni Zonin è una figura controversa per tanti nel Veneto, quindi ci sono quelli che difendono e quelli che attaccano Zonin e la Banca Popolare di Vicenza. Non ho gli elementi per giudicare. Posso dire questo del sistema italiano. Ci sono troppe banche in Italia, bisogna avere un consolidamento delle banche in Italia. Se il sistema funzionasse bene dovrebbe tagliare 10 o 20 mila posti, quindi migliaia di esubri di bancari, purtroppo. Le sofferenze sono troppo elevate nel sistema. Il sistema in sé è solido. La gente non deve avere paura e tenere i soldi sotto la materassa. Però ci sono 5 o 10 altre banche piccole e medie come Banca Etruria, che secondo me sono tecnicamente bancherotti e che verranno fuori. E la questione di fregare e truffare piccoli risparmiatori, come è successo, almeno in alcuni casi della Banca Etruria, deve essere bloccato. In altre parole, la Banca d'Italia e la Consob devono spiegare che cosa hanno saputo e quando e ci deve essere un'inchiesta parlamentare per verificare che il sistema di vigilanza delle banche funziona. Per me non è funzionato qui, quando la Banca d'Italia nel 2013 sapeva che Banca Etruria era già praticamente caput e per due anni ancora ha permesso la vendita di obbligazioni subordinate con poca possibilità di recuperare i soldi e non c'è stata una comunicazione trasparente fra la Banca d'Italia e la Consob. E quindi tanti piccoli risparmiatori si sono affidati al loro direttore di filiare che hanno detto compri questo e quello si chiama truffa. Grazie.